O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Misteri luminosi Primo mistero luminoso Il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano Dal Vangelo secondo Marco In quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di scendere verso di Lui come una colomba. La storia sta per vivere un momento unico. Gesù si inginocchia davanti al cugino, Giovanni il Battista, che gli dice No, io devo essere battezzato da te, e Gesù, è giusto che si compia la volontà del Padre. Quale? Quella di essere l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ricorda sempre, qualunque peccato tu abbia compiuto, se ti pentirai, Dio ti perdonerà. Lui perdona, non accusa, non condanna. È venuto per giustificare, e non per condannare. Impariamo, da questo incontro, a essere umili, e chiediamo perdono a Dio, aprendo il nostro cuore ai Suoi ministri, i sacerdoti. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero luminoso Le nozze di Cana Dal Vangelo secondo Giovanni Sua madre disse ai servitori Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Che c'è tra me e te, o donna? Fate quello che vi dirà. Chi è Costei? Una creatura che anticipa l'ora di Dio? È una donna povera, umile, piena di grazia, serva obbediente, moglie, madre, vergine e sposa. Tutte queste cose grandi, e tantissime altre, sono racchiuse in colei che è piccolissima, ma, proprio perché tale può, come una goccia dilugiata, rispecchiare il cielo. Fa anche tu quello che egli ha detto, e vivrai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero luminoso. L'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione del cuore. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamava il Vangelo di Dio e diceva, Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Convertitevi e credete al Vangelo. Così comincia il Vangelo, che si conclude con l'annuncio della salvezza. Non temete, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ognuno di noi ha bisogno della salvezza, e può gustarla accogliendo Gesù, la sua parola, la sua presenza che è già in te, accanto a te e per te, affinché tu abbia la gioia e la tua gioia sia piena. Non aver paura. Dà fiducia a Gesù. Credi in Lui, nella sua parola, e fa che questa si concretizzi nella tua vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tavor. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, e la sua veste divenne candida e scolgorante. Saliamo sul monte Tavor, pregando e diciamo con gioia, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Ascoltiamo la voce del Padre, che dice oggi anche a noi, ascoltate Gesù, seguite Gesù, non perdete altro tempo, perché il tempo della vita è tanto breve. Viviamo la nostra vita quotidiana nella speranza e nella certezza che ci viene dalla fede di poter raggiungere un giorno la città celeste e poter gioire illuminati dallo splendore di Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero luminoso, Gesù dona l'Eucaristia alla Chiesa come testamento d'amore. Dal Vangelo secondo Matteo Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, e lo diede l'oro dicendo, Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Una cena, che chiamiamo ultima, ma che è perenne, che si perpetua ogni giorno su ogni altare, ormai da più di duemila anni. L'ultima cena, potessimo capire tutto il mistero d'amore che contiene, Dio si fa il nostro servo, che viene in mezzo a noi per servirci. Lasciamoci servire da Lui, amare da Lui. Dio si fa pane di vita. chiediamo a Gesù di aiutarci a non vivere mai più, messe distratte, fredde, trascurate, senza entusiasmo, senza la gioia dell'incontro con Gesù, vivo e vero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salva, a te ricorriamo, esuri figli di Eva, a te sospiriamo, ongementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie lauretane Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito santo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine Prudente, prega per noi, Vergine degna d'onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine Potente, prega per noi, Vergine Clemente, prega per noi, Vergine Fedele, prega per noi, Specchio di perfezione Prega per noi Sede della Sapienza Prega per noi Fonte della nostra gioia Prega per noi Tempio dello Spirito Santo Prega per noi Tabernacolo dell'eterna gloria Prega per noi Splendente dimora di Dio Prega per noi Rosa mistica Prega per noi Torre della Santa Città di Davide Prega per noi Fortezza inespugnabile Prega per noi Santuario della Divina Presenza Prega per noi Arca dell'Alleanza Prega per noi Porta del Cielo Prega per noi Stella del Mattino Prega per noi Salute degli infermi Prega per noi Rifugio dei peccatori Prega per noi Consolatrice degli afflitti Prega per noi Aiuto dei cristiani Prega per noi Regina degli angeli Prega per noi Regina dei patriarchi Prega per noi Regina dei profeti Prega per noi Prega per noi Regina degli apostoli Prega per noi Regina dei martiri Prega per noi Regina dei confessori della fede Prega per noi Regina delle vergini Prega per noi Regina di tutti i santi Prega per noi Prega per noi Regina concepita senza peccato originale Prega per noi Regina assunta in cielo e in corpo ed anima Prega per noi Regina del Santo Rosario Prega per noi Regina della famiglia Prega per noi Regina della pace Prega per noi Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Perdonaci O Signore Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Esaudiscici O Signore Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio Perché siamo resi degni Delle promesse di Cristo Preghiamo O Dio Il Tuo unico Figlio Ci ha procurato i beni Della salvezza eterna Con la Sua vita Morte e risurrezione A noi Che con il Santo Rosario Della Beata Vergine Maria Abbiamo meditato questi misteri Concedi Di imitare Ciò che essi contengono E di raggiungere Ciò che essi promettono Per Cristo Nostro Signore Amen Preghiamo Secondo le intenzioni Del Santo Padre Padre nostro Che sei nei Cieli Sia santificato Il Tuo nome Venga il Tuo regno Sia fatta la Tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimetti a noi I nostri debiti Come noi Li rimettiamo Ai nostri debitori E non ci indurre In tentazione Ma liberaci dal male Ave o Maria L'eterno riposo Dona loro Signore Esplenda ad essi La luce perpetua Riposo in pace Amen L'eterno riposo O Vergine O Vergine gloriosa E benedetta Nel nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen